Il Rwanda Lizard è una rossa molto forte con molti climber e io sono un climber e lo amo un buon panorama e un buon area mi piace il Pyrenees La Rwanda Lizard è una rossa di rossa per l'espoir e una rossa di rossa anche per gli effetti professionisti perché è una rossa che conta in una settimana e quindi è sempre bene di fare La Rwanda Lizard è veramente una rossa tipo di rossa e oggi è stato l'età prena di questa Rwanda con l'arrivata al plateau di Baye come le corso del Tour de France nel settembre e io voglio veramente passare l'arrivata in vincere oggi Grazie a tutti!